Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux e per sempre. Benvenuti in questo secondo video dedicato ai comandi da terminale. Nel primo video abbiamo visto comandi per creare una cartella, mkdir, per rimuovere una cartella vuota, rmdir, per creare dei file, per rimuovere dei file, per listare il contenuto di una directory, quindi tutte le cartelle e i file presenti, per visualizzare il contenuto di un file senza modificarlo, per aprire un file con un editor di testo da terminale, e quindi scrivere quello che vogliamo, per ricercare una stringa all'interno di quel file, per modificarla con sed, eccetera. Oggi approfondiremo i comandi già visti e ne impareremo di pochi nuovi, solamente pochi nuovi. Allora, per cominciare, spostiamoci con ct in una cartella che ho creato, test2. Qua, visualizziamo con s, che file abbiamo? Abbiamo il file 1, nel file 1 abbiamo il cane abbaia, il cane è il miglior amico dell'uomo, il cane va a passeggiare, il cane corre. Nel file 2, cat file 2, abbiamo il gatto fa le fusa, il gatto ha i baffi, il gatto beve latte. Bene, diciamo che adesso vogliamo cambiare, vogliamo rinominare il file 1, quello con il cane, e chiamarlo cane. Quindi, rinominiamo da file 1 a cane, con il comando move, mv file 1 cane. Se adesso facciamo ls, vedremo che non abbiamo più file 1, ma un file chiamato cane. E se visualizziamo cosa sta dentro cane, abbiamo ovviamente il contenuto che avevamo prima su file 1. Bene, quindi mv serve per rinominare un file, ma anche per spostarlo. Ad esempio, mi sposto intanto sulla cartella superiore, sulla home, e diciamo che voglio spostare quel file 2 dentro la cartella test 2, quindi inserisco il percorso relativo da prima la cartella test 2 e poi il nome del file, file 2, e poi inserisco il percorso su dove voglio spostare questo file. Ho una cartella test 3, quindi spostiamo il file 2 dalla cartella test 2 al test 3. Vedete, abbiamo un primo, da prima il comando mv, il primo argomento del comando è il percorso da cui vogliamo copiare, e il terzo argomento è il percorso su cui vogliamo incollare. È un taglia e incolla, praticamente, uno spostamento del file. Va bene, andiamo quindi su test 3, con cd, visualizziamo cosa abbiamo qua, e vedete che abbiamo il file numero 2. Ok, quindi abbiamo imparato un nuovo comando, mv, move. Il secondo nuovo comando è il comando per copiare, cp, copy, cp, file 2, diciamo che vogliamo copiare il file 2 in file 3. Avevamo solamente il file 2 in questa cartella, adesso facciamo un ls, un ls, e vediamo anche file 3, il file appena creato, appena copiato. Ovviamente, il contenuto di file 2 e file 3 è identico. Bene, adesso vediamo che il comando cat che serviva per stampare un file o per concatenare diversi file, in realtà è possibile usarlo semplicemente così. Scriviamo solo cat, il cursore va a capo e ci permette di scrivere ciao da Luigi. Premo invio e vedo ripetuta la linea appena inserita. Per chiudere premo la combinazione di tasti ctrl d. In realtà non è successo niente a parte ripetere questa stringa sullo schermo. Però, se noi facciamo la stessa operazione scrivendo cat e ridireggendo l'output non sullo schermo ma su un file che chiamerò file 4 guardate che succede. Allora, io scrivo ciao da Luigi. Come va? Spero tutto bene. E per chiudere vi ricordate ctrl d. cosa sarà successo? Guardiamo con ls cosa c'è? C'è un nuovo file c'è file 4 vediamo con cat file 4 ciò che il file contiene. Ciao da Luigi come va? Spero tutto bene. Quindi esattamente quello che avevo scritto io quello che avevo dato io come input. C'è un altro modo di fare il tutto. cat facciamo minore minore eoff eoff sta per end of file fine del file poi maggiore file 5 minore minore sta per indicare a cat fermati quando trovi un end of file una fine del file il segno maggiore invece sta per rediriggere l'output di cat su un file su file 5 bene scrivo ciao da Luigi spero tutto bene e chiudo questa volta non con ctrl d ma con eoff vedete ho scritto eoff e cat ha finito di ricevere input se facciamo cat file 5 ciao da Luigi spero tutto bene ovvero quello che avevo dato come input ok abbiamo visto che cat stampa il contenuto di un file ma cosa facciamo se il file è bello lungo vediamo un po vado a cercare un file abbastanza lungo cat .bashrc vedete è un file lungo ovviamente possiamo scorrere all'indietro però diciamo che non è molto comoda come cosa quindi adesso impariamo un comando per leggere dei file al posto di cat scrivo less che appunto sta per leggere premo e vedete che mi ritrovo l'inizio del file e posso scorrere con i tasti direzionali scorre in basso e posso raggiungere la fine del file lentamente per come voglio all'interno di less in realtà è possibile cercare ricercare una stringa muoversi anche in modo diverso comunque questo ci basta per il momento rimaniamo sulle basi quando abbiamo finito per uscire dall'ess dobbiamo premere il tasto Q e siamo usciti dall'ess ovviamente è possibile aprire questo file anche con nano che vi ho mostrato nello scorso video e qua addirittura vediamo un po' di colori comunque non cambio assolutamente nulla ma esco direttamente con ctrl x bene allora cosa abbiamo imparato oggi abbiamo imparato a ridiriggere dell'output su un file con il segno maggiore abbiamo anche imparato a dare a cut una fine dell'input con il tasto con il simbolo minore minore ora rispostiamoci sulla cartella in cui erano presenti dei file vediamo ecco qua abbiamo il file cane se vi ricordate ogni riga aveva la parola cane adesso diciamo che vogliamo prendere solo la riga il cane è il miglior amico dell'uomo sappiamo che in questa riga c'è la parola uomo e vi faccio vedere come filtrare l'output del file tramite grep grep lo abbiamo visto nel video precedente quindi cosa sto facendo sto prendendo cut cane e indirizzare l'output verso un altro programma verso un altro comando grep appunto grep uomo se faccio questo ottengo solo la riga il cane è il miglior amico dell'uomo con l'uomo evidenziato in rosso adesso combiniamo il tutto con la redirezione redizioneremo il comando su un file chiamato non lo so uomo quindi cosa succede abbiamo creato un file l'uomo cosa ci sarà mai all'interno del file il cane è il miglior amico dell'uomo va bene vi mostro semplicemente gli ultimi comandi per oggi il primo è della macchina quindi wma chi sono io hostname come si chiama il computer ho cambiato l'hostname il nome della macchina in pc virtuale bene adesso faremo una cosa interessante utilizziamo il comando echo e c h o che serve per stampare qualcosa ad esempio echo doppia virgolette ciao doppia virgolette e mi stampa ciao così echo serve a poco però adesso lo utilizziamo in combinazione con gli altri comandi scriviamo echo doppia virgolette il mio utente si chiama e poi il mio utente si chiama e poi segno del dollaro apro parentesi wma chiudo parentesi e il mio pc si chiama segno del dollaro apro parentesi hostname chiudo parentesi e chiudo virgolette cosa succede mi scrive il mio utente si chiama mint e il mio pc si chiama pc virtuale bene possiamo ridirigere tutto verso un file e lo chiamerò nomi cosa conterrà nomi ovviamente il mio utente si chiama mint e il mio pc si chiama pc virtuale va bene questo è tutto per oggi un saluto dal vostro cloud intux qui